Queste sono terre dove fiorisce un'agricoltura di qualità che ha saputo conservare il buono del passato e riproporlo. I prodotti tipici come la delicata cipolla piatlinga di Andezeno, le pregiate e dolcissime ciliegie di pecetto o i rubatà di Chieri sono una testimonianza tangibile che una produzione locale, vicina alla gente e distante dalle multinazionali degli OGM può esistere e prosperare. Entriamo in una vecchia cantina dove alla genuinità della tradizione si affiancano le moderne tecniche e scopriamo i vini tipici della collina torinese come il Freisa e il Cari, vitigni coltivati in zona fin dal 1600. Ci fermiamo a sorseggiare qualche bicchiere di questi nettari prelibati.